Quello che noi dobbiamo fare è salvare le vite e la domanda non è quella che lei, Presidente, in un rimbaltamento dei ruoli davvero assurdo pone a noi e pone ai giornalisti dicendo pensate davvero che le autorità italiane non abbiano voluto salvare la vita? No, non è questa la domanda. La domanda è è stato fatto di tutto e possiamo fare di meglio per salvare le vite? E porsi questa domanda significa voler rafforzare i nostri principi costituzionali, i principi a tutela dello Stato di diritto e dei diritti umani. Quando noi faremo questo, e lei dovrebbe utilizzare questa situazione per andare dai partner europei e chiedere una missione di salvataggio congiunta con i partner europei. e forse avremmo anche più credibilità in quella sede di quella che lei adesso è in grado di portare nel consesso europeo.